Buongiorno mister, alla luce della partita con la Samp, che partita sarà quella con la Lazio? Che significati ha? Dare continuità per quello che è stato il nostro atteggiamento, la prestazione, la voglia di andare a ricercare il gol. Però ci aspettiamo tutti una continuità in quel senso. C'è un calendario non facile che Verona si è lasciato alle spalle e che comunque ancora avanti avrà. Qual è anche un po' la valutazione del rendimento del Verona considerando appunto il peso degli avversari visto fino adesso? Il calendario è abbastanza complicato perché è arrivato tutto insieme e nella fase iniziale del campionato. Ci ha dato grandi indicazioni, nonostante prestazioni negative, prestazioni sotto tono. Però mi ha dato molte indicazioni perché abbiamo saputo affrontare questi momenti. Abbiamo saputo anche reagire a mio avviso. E quindi di questo sono soddisfatto perché la squadra dopo le due sconfitte contro la Samp ha dato una grande prova, una grande dimostrazione di essere sul pezzo. Abbiamo visto i convocati, qualche recuperato, qualche nome in lista in più c'è. Si perde invece Bessa. Volevo capire al di là del fatto che sono in lista convocati come stanno i vari Casseress innanzitutto. Visto che è una partita anche interessante per lui, come stanno gli altri recuperati? Siamo usciti malconci dalla gara, dalle gare anche quella con la Roma, con diversi acciacchi, problemi di contusione. Tanti giocatori non sono riusciti a smaltirle, a smaltire queste botte. Però poi alla fine in 11 scendiamo. Non voglio parlare anche contro la Samp. Nel reparto difensivo mancavano cinque giocatori, però la squadra ha saputo reagire. E anche questa volta a chi scendere in campo, sono convinto, saprà dare il giusto contributo. Chiaramente le valutazioni le devo fare perché la gara ha lasciato comunque, non nelle migliori condizioni, tanti giocatori. Per cui quelli che scenderanno in campo, sono convinto, faranno una grandissima prestazione. Ciao Fabio, sono convinto che anche con qualche altra pedina al posto di chi ha giocato nell'ultimo match avremmo visto comunque un Verona diverso. Cioè è stato facile dire, vabbè ha giocato a Fossati e quindi abbiamo visto, secondo me anche con Buche, tanto per dire, avremmo visto lo stesso Verona. Ecco, non so se sei d'accordo con questa analisi. Quando parlo di squadra è proprio questo, anzi io sono d'accordo, al di là dei singoli, a me è piaciuta la squadra e quando parlo di squadra anche quelli che sono in panchina, quelli che sono fuori, che creano il clima, creano il giusto clima, il giusto atteggiamento. C'è stato un atteggiamento bellissimo da parte di tutti e chi scese in campo dopo diverso tempo ha risposto alla grande, quindi al di là poi dei singoli, delle prestazioni dei singoli, io credo, di questo sono convinto, anche se fosse stato in campo altri giocatori, la prestazione sarebbe stata lo stesso. Anche se poi le cose più interessanti a livello anche di domande si riferiscono ai singoli, quindi ti chiedo, Fossati l'abbiamo visto uscire, insomma, non in splendide condizioni. Parlavi appunto di qualche difficoltà nel recupero. Lui ad esempio come sta? Potrebbe essere riconfermato oppure meglio farlo riposare un po'? Beh, chiaramente, devo fare valutazioni, diversi sono usciti i malconci, questo è vero. Considerato anche la partita, non solo quella con la Sampo, ma che ha nel legame anche la partita di Roma, perché anche la partita di Roma c'è stato un grande dispendio di energia, quindi io credo Marco ha buone energie, quindi ha lavorato benissimo, ha lavorato alla grande in questi mesi, questa è la dimostrazione della professionalità del ragazzo, ma della bontà del lavoro, perché non giocare mai e poi farsi trovare pronto in queste situazioni, significa comunque al di là di tutti i discorsi, ha lavorato molto bene. Credo che lui ne abbia di energie e credo possa essere riproposto sicuramente. E gli altri che invece non sono al top? Beh, al top parlo insomma dei diversi giocatori, oltre a Daniele che è uscito, insomma oltre a quelli che non sono convocati, già lo sapete, diversi devo valutare, qui le ore contano, quindi considerazioni le posso fare anche domani mattina, perché non si tratta di grossi problemi, ma piccoli acciacchi e poi possono compromettere la prestazione, quindi valutazioni che potrò fare anche domani mattina. Anche la Lazio non se la sta passando bene, tante assenze, soprattutto nel reparto arretrato, sarebbe stato meglio forse se non avessimo, se non vedremmo magari 4-5 attaccanti, perché insomma la Lazio sappiamo che gioca anche molto in attacco, però diciamo che questo può stimolarvi ad andare più verso la porta avversaria? No, no, questo è, no, assolutamente, non voglio sentire la trappola che arriva, noi siamo in emergenza, la Lazio è in emergenza, quindi questo veramente, non voglio sentirlo, o comunque ognuno è libero di dirlo, ma non voglio stargli, non dargli troppo peso, perché ripeto, noi abbiamo affrontato la partita con la Samp e dietro mancavano 5 giocatori, alla fine sempre in 11 si gioca e al di là degli uomini è la squadra che ha risposto, quindi affrontiamo comunque una squadra che ha un suo valore, una squadra fisica, una squadra lavorata, con un allenatore che sta lavorando molto bene, si vede, e noi dobbiamo pensare di affrontare la Lazio al di là di chi scendere in campo, perché ha una rosa competitivissima, per cui anche se gli mancano dei giocatori, credo riuscirà a mettere in campo comunque una squadra di un certo livello. Quali sono le insidie maggiori di questa partita? Quelle a un po' di tutte, oppure anche la qualità, come dicevi, della Lazio? No, e che... Fatto che arriva comunque davanti a una sconfitta... Ma l'insidie, l'insidie ogni gara, io vorrei invece pensare, al di là dell'insidie, la confermo, vorrei rivedere le nostre cose, vorrei rivedere l'atteggiamento della mia squadra, e poi ogni gara lascia dell'insidie, per quanto uno possa prepararle, studiarle, o tenere tutto sotto controllo, ci sono delle variabili che ti sfuggono sempre, per cui è una squadra sì di qualità, ma di grandissima fisicità, quindi noi dovremo comunque riuscire a mantenere quel tipo di livello, di fisicità. L'ultima cosa, dimmi di lì, che siamo tutti curiosi di vederlo all'opera, come sta, lo stavi anche per inserire, poi c'è stato un problema di... Ma anche lì è il discorso che ho fatto, Fossati che lo conosciamo, è stato fuori quattro mesi, ha risposto, sta lavorando alla grande, il ragazzo, non è semplice inserirsi in un nuovo contesto, in una squadra, ma grandissima professionalità, un giocatore di qualità, e arriverà il momento giusto, e sono convinto, nel momento in cui scenderà e avrà l'opportunità, risponderà alla grande, perché, lo vedo, è in continua crescita, bisogna avere fretta, voglio tenerlo, ma nel momento ci sarà opportunità, ci saranno occasioni, io credo che risponderà alla grande. Ciao mister, ben trovato, difesa tra la Lazio, pare che si schiererà domani al Bente Godi, cosa può cambiare questo nella tua idea di schierare appunto un eventuale fronte d'attacco, senza parlare poi di Pazzini o meno, può cambiare qualcosa nelle tue scelte il fatto che la Lazio può giocare con la difesa tra? No, questo no, assolutamente no, devo, al di là del modulo della loro disposizione, noi continuiamo sulla nostra strada, facendo sempre il suo discorso, quello che ho detto prima, che devo tener conto della condizione generale di tutti i giocatori, e poi che chi mi garantisce una certa energia e freschezza riusciremo a mettere in campo poi la squadra. Quello che ci deve essere è la stessa identità, poi al di là del modulo di quello che potrà essere qualche cambio, l'atteggiamento deve essere assolutamente lo stesso. Ecco, con la Sampdoria, l'abbiamo detto subito a fine partita, è piaciuto soprattutto l'atteggiamento, immagino che tu sia stato il primo a essere contento di come i tuoi ragazzi ci sono presentati in campo, sempre aggressivi, sempre primi sul pallone, quindi vuol dire che qualcosa anche a livello mentale deve essersi sbloccato. Per tanti si vede che insomma hanno deciso di mostrare gli attributi, non dico perché era l'ultima spiaggia, perché parliamo della quinta di campionato, quindi è eccessivo questo. Però come ti spieghi tu appunto questo cambio completo di volto della tua squadra da Roma a mercoledì sera con la Sampdoria? Beh, contro la Roma abbiamo provato a fare la nostra gara con un avversario diverso, è chiaro poi nelle difficoltà si sono evidenziati alcuni errori. Una presa di coscienza da parte di tutti, ma è una continua crescita, è una questione di maturità che passa dopo le prestazioni, anche dopo alcune sconfitte, si prende maggiore consapevolezza, maggiore coscienza dei propri mezzi. Io dico, è vero sì che contro la Sampdoria abbiamo avuto un grande atteggiamento, ma c'è stata anche la voglia, abbiamo rischiato di prendere il gol, ma c'è stata tante volte l'opportunità di fare il gol. Quindi nella partita si è finita 0-0, ma poteva esserci sicuramente un risultato diverso. Quindi sì, giusto atteggiamento, ma anche la voglia di andare a ricercare il gol, perché per vincere e per fare i punti più possibili dobbiamo affrontare di più, cercare di più la via del gol. Anche perché, appunto, mi ha anticipato, mister, nella partita contro la Sampdoria avete tirato più in porta che in tutto il resto del campionato, nelle antecedenti quattro giornate, come tiri nello specchio della porta. Abbiamo creato al di là dei tiri, tante volte abbiamo sbagliato anche delle scelte, però abbiamo dato un senso di pericolosità, di creare problemi a un avversario, una squadra che, ripeto, comunque la Samp ancora non ha perso in questo campionato, quindi si vede una squadra che ha dei valori. Quindi c'è stata la voglia da parte dei miei. Noi su questo dobbiamo continuare. Atteggiamento giusto, voglia di recuperare palla, aggressivi, sempre con rabbia giusta, determinazione e pizzico di qualità, metterla a disposizione, nei 30 metri, fare la scelta giusta per ricercare il gol, perché, ripeto, quella è la strada per poter raggiungere il nostro obiettivo. Hai avuto anche il coraggio di scherare due esordienti in Serie A, soprattutto mi viene da parlare di Barzotti, che, insomma, il doppio salto dalla Lega Pro alla Serie A non è da tutti, e Enrico ha risposto no bene, direi benissimo, mi permetto di dire, senza dimenticare poi l'intervento, il frame della partita con la Sampdoria, è quello di Antonio Caracciolo, al 91esimo, con questo take all'aereo, quasi una mossa di Confuca, salvato il risultato, ma dando il pallone sul palo. Ecco, questi due giocatori puoi riproporli, domani è il Bente Godi, quantomeno Caracciolo, e poi ricordiamo anche che Barzotti nasce come stanno d'attacco alto, anche. Enrico, sì, Barzotti ha giocato sempre da esterno, esterno alto, e noi dall'inizio della stagione abbiamo, ho cercato di indirizzarlo, sì da esterno, ma anche lavorare da terzino. Si è trovato l'occasione, l'ha sfruttato alla grande, in merito del ragazzo, su Caracciolo, nessun tipo di scoperta, perché già l'abbiamo conosciuto, abbiamo visto la sua professionalità, serietà, anche per lui era la prima partita dopo di là delle infortuni, ha avuto una preparazione singhiozzo, e ha risposto alla grande. L'atteggiamento, quello si racchiude, quell'immagine, con la voglia di raggiungere il risultato. In quella situazione, il suo sforzo è stato premiato, e anche quel pizzico di fortuna, ci ha permesso poi di finire la partita, anche perché era finita la gara, quindi ha salvato evidentemente il risultato. Ecco perché non voglio sentire parlare di altri, di emergenza totale di altri, perché noi abbiamo affrontato la gara in quelle condizioni, con esordienti, e la prestazione c'è stata. Quindi al di là degli uomini, quello che conta è poi la voglia di ricercare il risultato. Ottime due considerazioni velocissime, mister. Al secondo fischio, per la chiusura del primo tempo, il boato del Bentegodi, che va accompagnato dentro gli spogliatoi, a pensarci mi vengono ancora i brividi, perché sembrava il triplice fischio di una vittoria, non dico che poteva valere la promozione o la salvezza, però è la famosa spinta del dodicissimo uomo in campo, non ci vogliamo ripetere, perché sappiamo che ormai è un live motive, questa cosa. Ma faccio due domande in una. Anche Nicolas, che in questo inizio di campionato purtroppo è stato spesso preso anche a male parole dai più, però ha fatto una parata che ha dato sicurezza a tutto il reparto e soprattutto ha salvato il risultato, perché quella parata con la mano di richiamo è una parata che pochi portieri riescono a fare. Io sono felice quando il pubblico apprezza, questo mi rende orgoglioso, perché hanno sottolineato la prestazione della squadra anche perché il primo tempo abbiamo finito increscendo, dove la squadra aveva preso campo, aveva preso fiducia e il pubblico l'ha sottolineato e l'ha apprezzato. Io di questo sono veramente felice. Prego. Ciao mister, buongiorno. Ciao, buongiorno. Due cose. La prima, diciamo, sulla squadra. Parli sempre di crescita. So che ormai avete dei parametri così. Anche la vostra crescita fisica, i vostri parametri fisici dei giocatori ti danno buoni riscontri da questo punto di vista? Guardate, io sui dati faccio delle valutazioni importanti. Nelle prime gare, anche nelle partite in cui abbiamo preso le scopole, la squadra ha corso più dell'avversario, paradossalmente. Dal punto di vista fisico, la squadra l'ho vista sempre, ha tenuto sempre il ritmo. quando le cose vanno male, si vede tutto che la squadra, anzi, si vede tutto nero, chiaro, anche la sensazione di una squadra che non corre, una squadra che non aggredisce, una squadra che... Quindi dal punto di vista fisico, la squadra ha sempre risposto. E anche nelle partite in cui c'è stata una brutta prestazione. Mercoledì contro la Samp, dove c'è stato un grandissimo atteggiamento, si è avuto anche la sensazione di una squadra in salute, una squadra con forza, con energia. Quindi passa tutto da quello. Quando c'è quella voglia, la voglia, insisto, ha la voglia di vincere, la voglia di lottare, si esalta tutto. Quindi dal punto di vista fisico, la squadra c'è. Dal punto di vista tattico, quindi le mie sono le responsabilità, ma le prendo io. Quindi dal punto di vista fisico, se la squadra corre, se corre male, la colpa è la mia. E l'altra cosa invece è generale, poi siccome guardiamo il campionato, dopo la quinta, qualcosa si comincia a capire, no? C'è veramente troppo gap di differenza e come si può colmare da quelle molto forti a quelle che stanno dietro? Perché si vedono anche dei punteggi forse per la prima volta quest'anno particolarmente pesanti per chi è arrivato in Serie A da poco, perché questo vice squadra è comunque sicuramente diverso da quelle che sono quelle che notano lo sudete. Seconda, collegata, e come si fa a colmare questo gap? Ah, non lo so? Ah, bene, ma si fa sempre più evidente questo, sì, di vari, le grandi con le cosiddette piccole, questo è evidente. noi, al di là poi di quello che si dice, anche perché poi chi spende 200 milioni, 300 milioni, chi non spende niente alla fine della fiera, come si dice, tutti vogliono vincere, tutti vogliono vincere, quando si perde non ci sta nessuno a perdere. Questa è la regola, la regola non scritta. Per quello che dobbiamo fare per il nostro campionato, vogliamo fare un buon campionato, vogliamo dire la nostra, chiaramente per superire questo gap sicuramente ci vuole l'organizzazione, l'equilibrio, organizzazioni di lavoro intendo, le idee chiare della società e creare un gruppo forte. Su questo poi si lavora e si, piano piano, si raggiunge, senza farsi prendere troppo dalla negatività, perché c'è troppa differenza, evidentemente c'è troppa differenza tra le grandi che faranno un campionato a parte rispetto a tutte le altre. Questo uno deve, per me è molto chiaro, anche perché le grandi sono squadre che già lavorano, già ci sono da tanti anni in Serie A, che lavorano e quindi le neopromosse o comunque le cosiddette piccole devono riaffrontare una categoria e si devono ripresentare, riproporre e gestire questo gap. Per chiudere, la Lazio è tra le grandi, non è ancora diventata ma però questo non vuol significare che le partite contro queste non vanno giocate, sarebbe un errore gravissimo, un errore grandissimo, anzi, la squadra, la mia squadra è quello che dico, affrontare il Napoli e provare con le nostre forze a giocare per vincere, per fare risultato, quindi contro tutti, anche il Napoli o la Roma sono di primissimo livello, primo, secondo, secondo e terzo, la Lazio l'anno scorso ha fatto il campionato, quarto, quinto, quindi sono di livello alto ma questo non significa che le partite non vanno giocate assolutamente, noi, che la Lazio c'è per quello che è il suo valore, poi il valore deve stabilire il campo, quindi noi ce ne dobbiamo giocare le gare, vanno giocate assolutamente, poi il campo dirà chi è stato più forte e chi ha meritato di vincere. Vi faccio io un'ultimissima, no, per chiederti cosa ne pensi di Simone Inzaghi, fra l'altro voi vi siete incrociati anche penso sul campo, no, dai giocatori, quindi è una conoscenza abbastanza lunga. Sì, forse un po' più col fratello, lui un po' più, però al di là di questo bisogna fare i complimenti perché ha preso una squadra in corso due anni fa, l'anno scorso ha fatto un grandissimo lavoro, una squadra che l'ha saputa, gli ha dato comunque un'idea, una squadra lavorata e io per quello che vedo sul campo vedo un allenatore di qualità, un allenatore che lavora bene. Voi? grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.